Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Mime Team Il mio nome è Frank Yoka e oggi vi insegnerò come costruire una casa in alternativa alle super mega case che si possono trovare online nei server di Minecraft Andiamo nel mio mondo e voilà Ecco qua la casa che vi voglio insegnare a costruire Allora, innanzitutto diamo una bella occhiata dall'esterno Come vedete la casetta è cubettosa, alta 3 cubetti Larga 2, 4, 6 cubetti, un 6x6 Un bellissimo e maestoso 6x6 Fatta in legno raffinato normale Quindi quello chiaro ma non troppo I contorni sono fatti con legno raffinato scuro Che gli dà quel tocco di classe Di fronte due alberi che gli danno una certa imponenza E invece qua sul retro ci sono delle coltivazioni standard Ad esempio c'è del bambù Una zucca Delle angurie E del grano Semplicissimo grano E là una pecora E bene però Qualcuno sta pensando Ma non mi sembra così difficile costruire una casetta del genere Non mi sembra che sia una cosa su cui fare un video Aspettate Entriamo per commentare Entriamo e voilà Quella che dall'esterno poteva sembrare una piccola casetta Pucciosa o merdosa Definitela voi All'interno invece è molto più grande Innanzitutto Che è la prima cosa che si nota Ma anche molto più artistica Molto meglio decorata Qua c'è anche una bellissima camera da letto Anche lei nascosta E questa specie di acquario verso l'esterno Un piccolo effetto particolare che si può ottenere solo su Minecraft Grazie alla sua fantastica gravità molto realistica Comunque Descriviamo un attimo Allora Le pareti sono fatte in jungle wood Raffinato Il legno degli alberi delle piongle Raffinato Che ha quel rosetta molto carino Pavimento fatto in lana A scacchiera bianco e nero Soffitto blu scuro Che deve andare a richiamare il blu marittimo Blu dell'acqua Alle pareti ci sono diversi quadri Messi con un certo ritmo In modo da dare alla vista Tranquillità Proprio dare un ritmo Una bellezza a sé stante Come vedete Come si può notare in particolar modo Dalla camera da letto Ci sono queste strane strutture Fatte con le glowstone E le fence Le ho usate innanzitutto per illuminare Perché non c'è dubbio che le glowstone illumino E le fence le danno quella sensazione di struttura Come se fosse una specie di struttura portante della stanza Le ho messe anche qua agli angoli All'interno della stanza Quella più grande E ho messo anche qua intorno all'acqua Sempre glowstone dust e fence Per dare un certo ritmo Che dire di più Qua ho messo casse Utilità varie Quindi crafting box e fornaci Questa casa è molto Molto semplice Sia all'esterno Che all'interno Però non c'è dubbio Che è una casa Che ti trae un attimo in inganno Infatti Se si guarda Dall'esterno Potrebbe sembrare Una di quelle casette stupide Che spesso si vedono All'interno dei server Proprio quelle casette marce Brute Schifo Mai quanto come quelle fatte in dirt Però Comunque uno Ne guarda e dice Ma che schifo E in realtà Ci entri E scopri tutto un altro mondo Non credo che ci voglia un genio A capire Come è stato fatto Semplicemente Quello che qua è il pavimento Qua è il soffitto Basta andare con un attimo di logica E si riesce a riprodurla tranquillamente Bene Questa qui è La casa che io chiamo Casa con effetto Tenda Harry Potter E basta Non c'è altro da dire Vi saluto Mi raccomando Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Condividete E ciao 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 Grazie a tutti.